Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuova video di news, nuova video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, nuova news dalle 3 2015 della fiera videoludica che si sta svolgendo in questi giorni e sempre dalla conferenza Bedeska Softwork. Praticamente lo sviluppatore ha rilasciato diversi video e diversi trailer dedicati a Doom, il nuovo remake o meglio il remake del classico sparatutto targato ID Softwork che uscirà su Xbox One, Playstation 4 e PC nella primavera 2016, quindi nel secondo trimestre del prossimo anno. Dal trailer di cui vi faccio vedere alcune immagini è possibile vedere i personaggi e i nemici che dovremo affrontare, l'atrocità del gioco, veramente la violenza ma soprattutto l'immensità delle armi e della devastazione che potremmo fare nel corso del gioco. Questo è un gioco che io attendo tantissimo perché sapete gli sparatutto quanto li ami e soprattutto Doom è stato uno dei miei primissimi giochi che ho provato ovviamente su PC dove mi sono veramente distrutto, quindi non vedo l'ora di provarlo il prossimo anno. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate appunto di Doom e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video, ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.